Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo il libro Superfotografia digitale, volume 2, autore Maurizio Capobussi, editore Libri Sandit. Vediamo l'indice. Evoluzione autofocus, focheggiatura automatica. La fotografia panoramica, vedere in grande. I sensori e la risoluzione, per fare foto nitide. No al cielo bianco, il colore è necessario. Tele e binocoli, vedere lontano. Scegliere teleobiettivi e binocoli. L'esposizione fotografica, controllare la luce è indispensabile. Una goccia come lente, per una ripresa insolita. Fuochi artificiali, colori nella notte. È un libro tutto a colori, molto ricco, ben descritto e ben fatto. Il prezzo è veramente interessante. 9,90 euro. Buona lettura a tutti. E se vi è piaciuto il libro, oltre ad acquistarlo, vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale. Grazie e buona giornata. Grazie. Grazie.